Nessuna necessità negli Stati Uniti di una terza dose Pfizer, salvo nuove evidenze scientifiche. In una dichiarazione congiunta, il CDC, l'Organismo di Controllo della Sanità Pubblica, l'FDA, l'Agenzia del Farmaco, hanno risposto così all'annuncio di Pfizer-BioNTech di voler chiedere l'autorizzazione alle autorità competenti per un ulteriore richiamo del loro siero anti-Covid. I dati in possesso del gruppo farmaceutico starebbero dimostrando una diminuzione, dopo sei mesi, dell'efficacia del vaccino nel prevenire infezione e malattia sintomatica. Un'analisi in linea con quella preliminare del Ministero della Salute israeliano, resa pubblica il 7 luglio, secondo la quale fra il 6 giugno e l'inizio di luglio la protezione è scesa dal 94 al 64%, mentre si verificavano l'eliminazione delle restrizioni anti-contagio e dilagava la più infettiva variante Delta. La Commissione europea assicura la disponibilità di dosi nel caso l'EMA si pronunciasse favorevolmente alla terza dose.